Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Shallow Combs. Allora, dobbiamo andare al cimitero. Il cimitero è di solito vicino alla chiesa, no? Quindi dobbiamo trovare la chiesa. Che è questa, no? Ok, sì, quello avevamo capito. Tu chi sei? Ehm, no. Mica, qua sono messi malissimo. Ecco, cimitero. GG. Ok. So what? Che becchio è lì? Ok. Qui ce l'ho pensato a fare? Uh, della corda. Ok, capisco. Interessante. La pala? Ah, ok. Cos'è? Volantino. Distribuzione per il 19 settembre. Grazie al genocidio del principio di Woodville è stata organizzata una nuova distribuzione di zubo nel quartiere di Watchap, e questo pure guarda per un pasto il 19 settembre e in comunque punto di distribuzione. Corsa non mi cali e riaccoglie di altrezze del cittadino, far tra l'estavolta, grape ape. O grappe e ape. A leaflet for the soup kitchen. This leaflet is dated for the day after tomorrow. The tickets for the soup kitchen are given out on the same day. Only somebody who works there could have written on it. Ok, prima di entrare. Entra. Vai Sherlock. Oh, qualcosa di interessante. Guardi, 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 guardi. On si. It's the type ofως. This must be the graveyard for the cave. Well judging by the state of this place, They don't work very often. Ha ha, che è ridere Non ho capito No, che stava Faccio la forma Ah, black paint Eh, non la vedo io la pittura nera Eh, non so what Una tomba? Eh, non la pittura uno dei quei usati per ridurre le coffine io posso pensare di due ragazze per cui qualcuno dovrebbe spendere un po' di tempo in un cemeterio oltre che si resta qui oltre che si resta qui oltre che si resta qui oltre che uno dei bischopi si resta qui un pezzo se si resta qui avrebbe fatto il nostro lavoro più facile ok, quindi cosa? andiamo a trovare una casa mobile soup ah ok finalmente cerchiamo di sapere chi ha a chi era indirizzato il buono e questo? vai eh non c'è questo cazzo eh ho capito ok Noi, noi! Abbiamo scopo gratuito dopo il massimo qui! Non esistete! Voi prendere il vostro, tutto grazie a la vostra generosità di Prince di Woodville. Un ticket per una buona buona buona! Excuse me, mio buon ragazzo. Tu non sembravi come i needi. Noi siamo qui per la buona, stiamo solo passando. Ma io voglio te commendare per la vostra buona carità. Grazie. Grazie. Capisco. Grappiate. Grappiate. Grappiate no, io che me l'ho grappiate. Ok, vi vediamoci. Ecco c'è sta roba. Ahhhh. Ahhhh. Ohhhh. Ah si? Vuoi giocare io dal start? Ohhhh. Il man from the soup kitchen. Non è solo in volontari servizio. Ah. Un game di money. Quindi posso parlarti di qualcosa altro? Ah, il gioco di soldi. Anche sono. Ahhhh. Perché sei iluso una buona. Vib plasticszu e brato la lecce senza il tuo b� decree. E, è che cosa a condannare nell'ai lecci per i 2 Dovori delci per i ticbelli di cred I entrambri? Ehi, esce. Ehm, ok. Ok, lasciano il vado per lui, ci devi tenere 36 punti. Ok, lancia. 1, 2. Che è? Che è successo? Ah, lo defa anche lui. Volontario, 11. Ok, lancia. Ah. Ah, ora ho capito. 23. 23. Ok. Intanto ti esce il teschio. Cane. Oppure sfori. Ah, vaffan gara. Oddio, 34. Probabile che sfori, dunque. Oh no. Oh, che palle. Oh. Ok. Ok, ho capito come si fa. Ok. Ah. Devo arrivare al 36, non devo per forza... Cioè... Non è che se vado oltre 36... Mi sballa. Tipo, con gli altri giochi più o meno è così. Dovrebbe cair 36... Esatto. Che è un po'... Difficile. Ah. Ok. Ho il race tipo 16, qualcosa del genere. Allora, prima... Ahah. ahah Koukatsu si va a morire Koukatsu 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 Deve dire che hanno un lavoro divertente. Si lavavano i morti, lavavano le pezzi, lavavano il sangue, lavavano i rati, lavavano le pezzi. Vizio, posso dire, mi preferisco dare la sopa. Non c'è un certo curto tra i servizi. Sì, non c'erano le informazioni sulle città. Non c'è nulla cosa. Il dispensario ha la sua propria. Interessante. Si, ho detto proprio. È quello che tutti i servizi preferono. Pensate. È proprio vicino al cemeterio. Grazie. Arrivederci. Quindi, dove dobbiamo andare? Al dispensario? Eh, infatti. Che è questo? Nyeh 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 nyeh. Devo vedere come corre. La 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 polli. Dio, è verità. Ok. Parliamo. come posso aiutarti? direi dottore, hai un morgo nella tua dispensaria? sì, è il posto più difficile nel bambino vorremmo vedere e la porta all'interno, l'altra con l'amplice molto bene ci vediamo dottore, potremmo? e guardatevi di te stesso lol, che devo fare? come tutti i morti, non so vai andiamo ah cos'è, ora è magicamente aperto guarda Holmes, una lista dei morti recenti come sad vedo nomi che hanno qualcosa in comune tipo lista di morti recenti nel robitorio del cimitero sarah ferguson ferguson bauxhall, levy petticoat barnaby copperfield è ferguson che mi ricorda qualcosa non so ben cosa però mi ricorda qualcosa non lo so fammi andare mh 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 non so non so non so io ho bisogno io ho bisogno io ho bisogno scusa io ho bisogno io ho bisogno io ho bisogno io ho bisogno scusa, che ti serve? non è niente guarda, il tuo inventario è vuoto Vabbè, andiamo fino a fare cos'è sta roba Ah, lol Cos'è? Una mappa? O P? C'è la sua tagliare? Oh? Ah, ah Oh, oh Abbassi una gran viola, eh Andami se C'è più cose lui là dentro che io nella cassaforte, non lo so Ok, andiamo avanti Non possiamo andare avanti, molto bene So, what do we do? We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue Ah Eeeh, eccolo qua Piano Ecco, c'è solo un problemino, piccolino piccolino Come faccio, ah? Dov'è la mappa? C'è, 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 c'è la mappa Watchable Dispensario Ok Questo penso sia il dispensario Lo vedo Dove ho pensato sia quello che dovevo trovare Interessante Comunque per questo episodio è tutto Io vi ringrazio per la visione Vi invito ad iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace Se avete detto questo episodio Date un'occhiata anche alla pagina facebook Che trovate in descrizione Li posto dei suoi decazzati e tutto quanto Io vi saluto Ciao Tutto a tutti